Lei rappresenta il governo, lo Stato. Che cosa è stato fatto per affrontare queste giornate di Bologna? Per affrontare queste giornate di Bologna, per quello che concerne le mie attribuzioni istituzionali, seguendo ovviamente le direttive del governo, sono state adottate tutte le misure per assicurare che il convegno si svolga con assoluta regolarità, senza turbamenti dell'ordine e adottando tutte le misure idonee a garantire ai cittadini la massima tranquillità e il rispetto dei loro diritti. Lei parla di misure di ordine pubblico in senso stretto? Sì, sotto questo profilo sì. Ecco, nel senso che quindi sono forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito. Più o meno si può fare una valutazione, si parla di... Esercito non ce n'è per il momento, esercito interviene in casi limite. Possiamo fare una valutazione delle forze disponibili, si parla di 6.000 uomini? Beh, adesso sa, dire esattamente il numero forse non è il caso, ma certo sono forze, come le ho detto prima, idonee per fronteggiare qualsiasi situazione.